In questa week abbiamo affrontato alcune operazioni di base con i vettori, il prodotto di un vettore per uno scalare, la somma, il prodotto scalare, il modulo, il prodotto vettoriale. Nel fare queste operazioni, anche all'interno di problemi più complessi, si possono commettere degli errori. Alcuni di questi errori sono frequenti, un po' come se tanti studenti inciampassero tutti nello stesso punto. Vale la pena, quindi, rivedere insieme alcuni dettagli e lo facciamo in questa lezione. Iniziamo con il modulo di un vettore. Il modulo di un vettore è un numero reale positivo e lo si calcola facendo la radice quadrata della somma dei quadrati delle sue componenti. Consideriamo il vettore b. Un errore frequente consiste nello scrivere la somma dei quadrati delle componenti come 1 alla seconda più 4 alla seconda meno 6 alla seconda. Se, a partire da questa impostazione errata, si svolgono i calcoli, si ottiene 1 più 16 meno 36, che è uguale a meno 19. Il calcolo del modulo richiede, come passaggio successivo, di effettuare la radice quadrata del numero trovato. La radice quadrata di meno 19 non è un numero reale, quindi si concluderebbe, sbagliando, che non esiste il modulo del vettore v, mentre è sempre possibile calcolare il modulo di un vettore, ossia il modulo è definito per qualsiasi vettore. Oppure, un altro errore che porta a una conclusione sbagliata consiste nel portare fuori dal segno di radice il segno meno e concludere che il modulo di v è uguale a meno radice quadrata di 19. Anche questo è un errore, perché il modulo è un numero non negativo. Una svista nell'impostare inizialmente i conti induce a questi due errori nella comprensione del significato del modulo. Vediamo come sarebbe stato il procedimento corretto. Elevare al quadrato le componenti si traduce nel mettere tra parentesi meno 6 e fare il quadrato. In questo modo la radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti di v è uguale alla radice quadrata di 53, un numero reale non negativo. Vediamo adesso un altro errore frequente che riguarda il prodotto scalare. Il prodotto scalare dei due vettori non è, come molti studenti pensano, un vettore, ma è un numero reale. Non è infrequente che gli studenti facciano il prodotto componente per componente dei vettori e indicano il risultato trovato, un vettore, come il prodotto scalare dei due vettori di partenza. Con un esempio concreto, il prodotto scalare del vettore U con il vettore V non si ricava così, ma si ricava così, ossia si effettua la somma dei prodotti componente per componente. Ricordiamo che il prodotto scalare di due vettori può essere uguale a zero, anche se nessuno dei due vettori è il vettore nullo. Ad esempio, se consideriamo questi due vettori, W e T, e se calcoliamo il loro prodotto scalare, otteniamo che W scalare T è uguale a meno 6 meno 9 più 15, che è uguale a zero. Questo ci permette di dire che W e T sono perpendicolari. Tutti questi esempi ci fanno capire quanto sia importante nel calcolo vettoriale prestare attenzione al significato di alcune procedure che sono diverse rispetto alle operazioni che siamo abituati a effettuare con i numeri reali.